In questa tranquilla cittadina, su queste strade quiete, qualcosa di terrificante, qualcosa di orribilante, sta arrivando. Mi scusi ma siamo chiusi. Stammi lontano! Che diavolo è stato? Una bestia selvatica? È davvero orribile, la cosa peggiore che abbia mai visto. È stata una bestia selvatica? Allora che ne pensi? Io credo zombie. Cosa? Sì, sai, non morti. Spettri. Voi siete splendidi. Onumi. Vi siete messi d'accordo? Zombie cannibali. Non scherzarci, è davvero raccapricciante. Oh, questa cosa non finisce bene. Ripetono le cose che facevano quando erano vivi. Coppi. Chardonnay. Ha appena detto chardonnay. Sì, l'ha detto. One, two, three, four, five! Benvenuti nel mio mondo, zombie. Te l'avevo detto che questa cosa finiva male. Beh, che sfortuna. Sono alquanto fiduciosa nella mia capacità di difendermi dai non morti. Me ne sono accorto. Mi scusi? Hai una gran bella battuta. Hai giocato in una squadra minore. Un pochino fra i principianti. È stato molto tempo fa. James Wan ha dichiarato che Annabelle 3 riprenderà direttamente da quando i Warren hanno preso la bambola nel primo film. Quindi questa pellicola si svolgerà in casa dei Warren, sempre interpretati da Vera Farmiga e Patrick Wilson. Pensate di vederlo? È una saga che un po' vi ha stufato? Fatemi sapere nei commenti. E vi piace la mia maglietta? Date un occhio in infobox. E io vi aspetto al prossimo video. Grazie a tutti.